ciao a tutti benvenuti in questo video un po particolare innanzitutto vi voglio ringraziare per tutte le iscrizioni che stanno avvenendo sia sul primo che sul secondo canale vi ricordo che giù sotto il video trovate il link per potervi iscrivere al mio secondo canale dove già ho iniziato a proporre caratteristiche e numerologia legata alla data di nascita di alcuni di voi che mi hanno scritto continueremo così voi continuate a scrivere le mail che io piano piano vi metterò in ordine di arrivo in base al giorno in cui scrivete vi metterò in ordine di arrivo e piano piano li faremo un po tutti questa sera vi voglio presentare tutti i mazzi che io ho creato nell'arco di di questo tempo che siamo insieme vi farò vedere sia quelli che già conoscete sia gli ultimi due nuovi arrivi e appunto proprio oggi mi è arrivato l'ultimo mazzo che sono andata a creare vi ricordo che giù sotto il video potete trovare il link di riferimento al sito che produce i mazzi e i mazzi di carte dove io li preparo li creo con con le figure con le diciture che vado a scegliere e li potete visionare tutti e poi eventualmente se siete interessati anche all'acquisto iniziamo con il primo mazzo il primo mazzo è il mazzo dei messaggi è stato creato come messaggi fra lui e lei ma sono benissimo intercambiabili per tutti gli argomenti sono dei messaggi io li ho fatti sia per lui che per lei ma poi li ho mescolati perché i messaggi è semplicemente una questione di grafica la differenza perché poi messaggi sono intercambiabili sia per uomo che per donna questa è la copertina la copertina è un era un bel disegno unito così fra uomo e donna che si guardano secondo me sono bellissimi tutte e due era una foto molto bella ricordo che tutti i miei mazzi sono firmati da me e il fronte e sono due rose una rosa e una azzurra dove sotto c'è appunto la didascalia del significato non ricordo adesso l'ordine di creazione perché non posso ricordarmi l'ordine di creazione di tutti i mazzi però diciamo che in sequenza dovrebbero essere questi poi ho creato il mazzo metaforico metaforico perché sempre con un bel una bella copertina con dei fiori sempre la mia firma e sono delle immagini semplicemente delle immagini con tantissime figure che possono intersecarsi in qualsiasi argomento e con qualsiasi con qualsiasi variante e vanno ad escrivere ad escrivere la personalità magari di un soggetto di una di una persona o magari anche di voi stessi che si può riconoscere in in quello che viene che viene descritto nella carta cosa dire sono sempre immagini molto belle molto molto caratteristiche e questo è il mazzo delle carte metaforiche poi ho voluto creare le mie le normand le miele normand che sono un mazzo di carte molto famoso composto da 36 carte ma io ne ho volute aggiungere diverse ci sono le carte caratteristiche ad esempio la volpe una carta delle normandi pensieri è stato aggiunto da me il serpente delle normande il cane le normande il bucchè le stelle il quadrifoglio la bussola l'ho voluta introdurre io poi abbiamo la cicogna i ponti esistono in un'altra variante delle normande la maternità è stata aggiunta da me il labirinto anche gli opposti è stata aggiunta da me la maschera l'ho messa io un'altra bussola per un doppio significato con con l'altra la vendetta il destino il tempo sono la riflessione sono delle carte che io ho voluto aggiungere per dare un tocco in più la gelosia poi abbiamo vediamo il pozzo esiste nell'altra variante si lettera messaggi better queste ci sono quasi tutte io ho voluto aggiungere il doppione di donne uomo che c'è anche in un mazzo particolare delle normande la famiglia è stata aggiunta da me la privazione pure leggerezza pure ecco fatto un'aggiunta a quello che erano le le carte classiche delle normande è un mazzo molto ricco e anche se non c'è una spiegazione vera e propria ma ho voluto creare delle carte che sono molto intuitive e questo è un altro dei miei mazzi poi come ben sapete perché li usiamo si può dire in ogni video abbiamo il mazzo degli oracoli questo mazzo nasce prima con un primo mazzo e poi ho fatto un secondo mazzo per arricchirlo anche il mazzo delle ultime degli ultimi due oracoli possono essere arricchiti può essere che farò qualche piccolo arricchimento in futuro la copertina è molto bella io amo le copertine colorate o con un determinato significato infatti questa è la dimenticavo di dirlo questa è la proprio la caratteristica della della fata morgana celtica ecco la fata morgana celtica che io ho voluto come immagine di copertina appunto per le mie le normande qua invece è stata un'immagine che mi ha colpito molto molto colorata molto bella con i colori il verde la speranza e l'arancio che per me l'arancio significa la vitalità l'allegria e appunto abbiamo qui come come già ben li conoscete chi mi segue abbiamo tantissimi significati dell'oracolo che appunto sul sito li trovate in due mazzi diversi potete anche se volete acquistarne uno solo io ho voluto arricchire il primo mazzo penso che questo rimarrà così perché sono già abbastanza ed è molto molto intuitivo e si aggancia benissimo a qualsiasi stesa e a qualsiasi variante infatti io le uso come voi ben sapete io le uso sempre e poi passiamo agli ultimi arrivi queste le voglio lasciare per ultime perché sono le ultime arrivate ho voluto fare un oracolo delle energie delle energie che possono essere caratterizzate da tantissimi eventi e da tantissime situazioni sempre la mia firma sempre molto colore appunto il mare che rappresenta le emozioni o l'oracolo energetico molte energie si muovono attraverso le emozioni e qui ho voluto rappresentare sempre mettendo come caratteristica anche l'uomo e la donna diversi significati con un significato multiplo rispetto al singolo che c'è nell'altro oracolo appunto per dare un significato multiplo abbiamo tantissime esempio divieto di impedimento ma possibilità comunicazione avviso notizia noia fastidio seccatura tradimento imbroglio doppiezza perché tradimento si potrebbe essere un tradimento amichevole sentimentale ma ci potrebbe essere anche un imbroglio a livello lavorativo o una doppiezza appunto di non dico di fra amicizia ecco un doppio una doppiezza a livello di amicizia poi abbiamo ammaliato abbiamo tantissimi i significati e sono delle delle figure molto belle prossime 20 riconciliazione prudenza lavoro scelta li conoscete bene perché questi già li abbiamo visti anche questa immagine è molto bella sicuramente lo riconoscerete ecco qua questo è il mazzo delle energie questo è un mazzo che penso proprio di in futuro di ampliare poi abbiamo io questo l'ho voluto creare per dare come dire un'impronta a quello che è la stesa in che senso voi come sapete benissimo al di là di quello che dicono le carte le stese possono parlare di qualsiasi argomento e in base voi a come agganciate le mie parole sempre però ho voluto creare questo mazzo che potrebbe essere sempre ampliato per dare una un'impronta più definita a quello che potrebbe essere appunto l'argomento della stesa come devi procedere devi lasciar perdere ora o mai più qualcosa che ti fa soffrire non dimenticare le cose importanti esprimi le tue ragioni cosa dovresti cambiare ritrova la tranquillità non tutto è come sembra il terzo incomodo e varie varie diciture che si possono agganciare a qualsiasi argomento devi mettere in ordine qualcosa l'amico molto importante è la caratteristica della figura che c'è apertura mentale l'altra vediamo qualcuna che non abbiamo visto questa è bellissima ci saranno dei conflitti dei conflitti che andremo sicuramente a vincere poi qualcosa di importante tu riferito all'uomo l'amica cosa stai mirando poi c'è adesso vediamo se ce n'è qualcuna che non è uscita in in qualche estesa ma penso che siano uscite un po tutte si sono uscite un po tutte queste un altro mazzo di cui sono molto molto soddisfatta perché durante le stese mi fa mi va non solo mi aiuta a capire ma mi dà molte soddisfazioni e adesso andiamo con l'ultimo arrivato questo è un mazzo che io ho voluto creare e questi sono diciamo come li ho intitolati nel sito adesso non mi ricordo sono i tarocchi alternativi questo è un mazzo di tarocchi completo di 78 carte dove ci sono arcani maggiori e arcani minori ma la caratteristica di questo mazzo che ora andremo a vedere è che nell'immagine che voi andrete a vedere non c'è ad esempio 0 il matto che è la prima carta degli arcani maggiori ma c'è il significato perciò la copertina rappresenta un bel girasole con uno sfondo blu e verde sempre la mia firma e quando li andiamo a girare abbiamo l'immagine che per me rappresenta ad esempio in questo senso questa in questo mazzo questa carta rappresenta appunto il matto la carta numero 0 degli arcani maggiori e come vedete secondo me è appunto questo il significato del matto nuovo inizio spensierato ingenuo potenziale illimitato ecco voluto mettere non il semplice nome ma appunto delle parole chiavi che vi fanno capire qual è il significato di questa di questa carta e l'immagine e ci aiuta a capire che appunto il matto perché diciamo è un po da pazzi gettarsi da una scogliera poi abbiamo la carta del bagatto la carta del bagatto appunto che si sta per immettere in una nuova strada in una nuova situazione perciò trasformare obiettivi risorse azione abili un'azione nuova che dà appunto inizio a un qualcosa non ve li farò vedere tutti perché sennò ci vorrebbe mezz'ora poi qui abbiamo la papessa la papessa che appunto studio una voce interiore calma consapevolezza perché appunto studiando si raggiunge la consapevolezza del sapere il mistero vedete la ragazza che cerca un qualcosa che non conosce ancora abbiamo l'importante imperatrice guardate che bella questa imperatrice energia creatività vitalità scusate creatività fertilità azione guardate quanto è bella queste immagini tutte le immagini delle delle mie carte sono molto ma molto ricercate abbiamo l'imperatore guardate che bello questo imperatore potere guida ordine solide basi abbiamo il papa il papa che nella tradizione è colui che custodisce il sapere tradizione stabilità seguire le regole religione come se questo fosse un libro importante dove lui il papa sappiamo che legge dalla bibbia ecco come un sapere profondo ho voluto rappresentare come un libro molto antico abbiamo gli amanti quale figura migliore di due persone che si abbracciano e vedo che si piacciono attrazione relazioni scelte conseguenze poi abbiamo il carro il carro che appunto questa donna il suo carro è rappresentato da una macchina d'epoca missione concentrazione successo autodisciplina per cercare la strada poi abbiamo la carta della giustizia appunto la carta della giustizia con la sua bilancia in mano giuste decisioni verità onestà imparziale e sono tutte così fino ad arrivare ai nostri arcani minori ecco qua e passiamo agli arcani minori vi potrei fare vedere semplicemente quali sono dove eravamo arrivati vediamo giustizia poi abbiamo la forza abbiamo l'appeso abbiamo il mondo abbiamo il giudizio abbiamo il sole la luna le stelle la torre il diavolo la temperanza questa è l'arcano 13 la morte la ruota e l'eremita questi sono i 13 arcani maggiori poi abbiamo partiamo con il mazzo di coppe perciò asso di coppe 2 345 di coppe 6 di coppe 7 di coppe 8 9 10 di coppe fante cavallo regina guardate che bella la regina di coppe e il re poi abbiamo denari asso di denari 2 di denari 3 di denari 4 di denari 5 di 6 di denari 6 di denari 7 di denari 7 di denari 8 di denari 9 10 il fante il cavaliere il re di denari e la nostra regina di denari abbiamo il seme di bastoni questo lo volevo da rappresentare così appunto per capire la passione e la forza che ci vuole nel preparare certe cose asso di bastoni 2 di bastoni il 3 di bastoni 4 di bastoni 5 di bastoni 6 di bastoni 7 di bastoni 8 di bastoni il 9 di il 10 il fante di bastoni il 10 il fante di bastoni il cavaliere la regina molto bella e il re di bastoni poi abbiamo il seme di bastoni poi abbiamo il seme di spade asso di spade 2 di spade 3 di spade 4 5 di spade 6 di spade il 7 di spade l'otto di spade il 9 il 10 poi abbiamo il fante il cavallo il cavaliere il nostro bellissimo re di spade e la meravigliosa regina di spade questi sono queste diciamo l'ultimo arrivo in in casa morgana sono i miei tarocchi non ero intenzionata a fare i tarocchi perché i tarocchi sono stati un lavoro abbastanza impegnativo soprattutto nel trovare le immagini che corrispondessero alle 3 4 definizioni parole chiave che ho voluto mettere appunto non ho voluto mettere il nome perché questo mazzo è adatto sia a coloro che si vogliono impratichere diciamo con con le parole chiave con il significato della carta anche aiutandosi con le immagini ma anche per chi sa già il significato e perciò ci mette poco a capire che questo è il fante di coppe messaggio infatuazione spensierato creativo ecco questo è stato un mazzo che io non ho voluto intitolare i miei tarocchi ma appunto l'ho chiamato i tarocchi alternativi perché appunto sono dei tarocchi abbastanza alternativi per questo io a breve darò la come si dice li manderò in revisione e appena loro mi daranno l'ok lo potrete trovare sul sito con tutti i loro fratellini se siete certo interessati a visionarli ed acquistarli perché poi sul sito anche se io dovessi ampliare questi due non dico adesso ma in futuro se li dovessi ampliare troverete sempre anche diciamo la scelta se acquistarli insieme come i miei oracoli ci sono due mazzi di oracoli oracolo 1 e oracolo 2 se li potrete acquistare insieme oppure acquistare separatamente bene queste sono tutte le mie creature create da me scelte una per una in base alla frase o al significato che volevo dare ho scelto un'immagine più appropriata spero che questo video vi sia piaciuto che vi piacciono i miei mazzi fatemi sapere nei commenti se vi piace il nuovo arrivo se lo trovate interessante mettete un bel like se vi piacciono i miei mazzi di carte io vi ringrazio per l'attenzione mi raccomando iscrivetevi a tutte e due i canali vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo prestissimo con un altro video vi ringrazio per l'attenzione